Buongiorno, sono Mario Gioia, sono un chirurgo plastico, in particolare sono un chirurgo estetico. Applico nella mia attività quotidiana tutti quanti quelli che sono i canoni, i criteri della chirurgia estetica, che è una chirurgia tesa a trasformare persone normali in persone che vogliono migliorarsi, piuttosto che invece la lezione precisa di chirurgia plastica che invece trasforma persone malate con dei problemi in persone sane. Personalmente sono specialista in chirurgia generale, sono specialista in endocrinochirurgia, ho 3-4 master di secondo livello in chirurgia plastica. Ho avuto la grande fortuna di imparare gran parte del mio lavoro da un collega americano, Michael Molnar, che lavorava a Los Angeles, e quando lasciai l'Italia per andare a vedere come lavorava, mi sembrò di andare in un paese che, oltre per la lingua, era la fantascienza per me. Oggi mi trovo, a distanza di anni, a aver portato avanti quello che avevo visto quando ero molto più giovane e avere un mio desagirio, uno standard di sicurezza elevatissimo, con una logica, una visione della chirurgia estetica per la quale per me la paziente deve avere una degenza limitata nel tempo ad ore, proprio per cercare di dare alla paziente quelli che sono i risultati migliori, con il minor numero di rischi e con la maggiore sicurezza possibile. Il studio NICE nasce da un sogno che avevo iniziato quando per la prima volta ho visto un desagirio negli Stati Uniti. La fortuna mi ha dato dei colleghi eccezionali, in particolare un anestesista, il dottor Del Vasto, che è eccezionale, che si è dedicato allo studio e al miglioramento delle tecniche anestesiologiche al punto tale da rivoluzionare insieme tutto quanto quello che era l'approccio chirurgico e anestesiologico a una paziente che si rivolgeva a noi per fare un intervento chirurgico estetico. Per cui oggi eseguiamo tutti quanti gli interventi a partire dal lifting del volto, la rinoplastica, l'otoplastica, la mastoplastica in tutte le sue forme retroindolare, retromuscolare, le mastopessi, le lipoaspirazioni, le grosse lipoaspirazioni in anestesia locale, il lifting del braccio e delle cosci in anestesia locale con anestesia. Il nostro studio si trova a Napoli, in via Veniero 17, è praticamente aperto sempre. Noi come medici e come gruppo siamo disponibili sempre per i nostri pazienti in qualunque momento, in quanto abbiamo un turno al nostro interno di H24, per cui siamo sempre pronti a risolvere ogni esigenza che si potesse presentare.